ok ciao a tutti mi chiamo lucifer e ma crema che potesatta il figlio di abba da ripote sandra quello quello quella ora giocherò il treno edica di asca di quello che ce l'ho comprato io di blestoso 2 e riporti il prigionario di asca blestoso 2 e guarda qui dice che sirius black è fuggito da azca van la prigione dei maghi nessuno ci era mai riuscito prima 12 anni fa ha ucciso ben 13 persone con un solo incantesimo almeno noi saremo al sicuro awards che c'è che non va la notte scorso ho sentito tuo padre che parlava di sirius black il ministero della magia crede che mi stia dando la caccia sirius black è fuggito per venire a cercare te dovrei stare molto molto attento non andare in cerca di guai non vado in cerca di guai di solito sono i guai che trovano me ma lo prenderanno vero voglio dire ci sono anche tutti quei bambani che gli danno una caccia non riesce a tenere quel mostro sotto controllo non ti preoccupare rom ti aiuteremo noi a trovare crosta fantastico devo camminare tutti francia come prima due volte una battuta la fine ancora l'uomo per aprire quella porta tieni premuto il pulsante sinistro per attivare la tua macchetta continua a tenerlo premuto mentre sposti il mouse per mirare ci sei ora rilascia il pulsante del mouse e lancia l'incantesimo all'ora eccolo possiamo salire sopra questo bagaglio è sufficiente che ci avviciniamo e cominciamo ad arrampicarci beh raccambiamo saltiamo verso l'alto per arrivare sopra quei bagagli molto bene fai strada tu dirigi ti verso i bagagli e premi il pulsante destro del mouse per saltare ecco raccogliamo queste gelatine tutti i gusti più uno freddo e gorge ci daranno cose fantastiche in cambio si è buona idea compriamo tu prendi tutti che le prenderemo immagino che dovremo togliere di mezzo questa cosa oppure uno di noi potrebbe lanciare dei pulsante